Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Goku Super Saiyan e oggi siamo sullo speciale 8 iscritti. Un'altra volta ho fatto lo speciale dei 5 iscritti, ma ora faccio quello degli 8. È cambiato qualcosa. Vabbè, è ancora... cioè, oggi è lunedì 7 dicembre, abbiamo fatto l'albero e Babbo Natale è qua. Aspettate che lo mostro. Eccolo qua. Babbo Natale. Parcazzazza, sembra che si sta per muovi. E ora vi faccio vedere l'albero. Aspettate. Vabbè, l'albero no. Cioè, non ve lo posso ancora mostrare, però... Nel prossimo video... Ciao. 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 Grazie.